Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Salierno e vi devo chiedere un immenso favore. Sono qui in teatro e abbiamo appena terminato le prove di rumoroso silenzio, ma vi devo chiedere un favore gigante, che viene dal cuore. Per favore, sosteniamo tutti Airet, associazione Onlus che aiuta le bambine dagli occhi belli. Questa malattia che prende questi piccoli angeli, è veramente tremenda. Per favore, andate sul sito www.airet.it e lì potrete vedere tutte le informazioni. Mi raccomando, diamogli un contributo grande a questi piccoli angeli. Mi raccomando, un bacio. Ciao.